La promessa anticipazioni. Immaginate di trovarvi in una tenuta avvolta dal mistero, dove ogni angolo cela segreti, e ogni passo potrebbe cambiare per sempre il destino di chiunque vi abiti. La promessa che lega gli abitanti di questa dimora è al centro di una serie di eventi drammatici che lasciano tutti con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà quando la verità verrà svelata? Cruz e Pelaio hanno un piano diabolico per allontanare Catalina dalla tenuta. Con una rivelazione segreta, cercano di manipolare il suo destino, mentre Manuel decide di sfidare le autorità, tornando a volare nonostante il divieto della guardia civile. La promessa che Manuel ha fatto a se stesso di seguire i propri sogni lo porterà a scontrarsi con chiunque cerchi di fermarlo. Nel frattempo, Cruz mette Pelaio con le spalle al muro, costringendolo a rispettare il loro accordo. La tensione è palpabile e ogni mossa può essere decisiva. La Marchesa, dal canto suo, ordina al conte di Anil di conquistare Catalina per allontanarla definitivamente dalla tenuta, aggiungendo ulteriori strati di intrighi e manipolazioni. Gianna, con una rivelazione sorprendente, informa Curro che Ramona è stata ritrovata in una grotta. Questa notizia misteriosa preoccupa il dottor Abel, che teme per la salute della guaritrice. Le preoccupazioni si intensificano mentre Feliciano avvisa Petra di non infastidire Teresa, arrivando persino a minacciarla. Poco dopo, Feliciano riceve una notizia devastante, la morte del padre. Questo evento lo lascia profondamente sconvolto e aggiunge tensione alla già complessa dinamica della tenuta. Mauro, sotto la pressione degli insegnamenti di Romolo, è messo alla prova come futuro capo maggiordomo. Pia, preoccupata per il cambiamento di comportamento di Baezza, scopre che l'uomo ha problemi di salute e desidera che Mauro lo sostituisca. Confidando le sue preoccupazioni alla governante, Pia cerca di capire come affrontare la situazione. E ora una domanda per voi. Cosa ne pensate delle decisioni di Manuel? Lasciateci un commento con le vostre opinioni. Intanto, Cruz e Gimena fingono dispiacere per i rimproveri di Alonso nei confronti di Manuel, ma sotto la superficie continuano a tessere le loro trame. Manuel, determinato a infrangere il divieto imposto dalla guardia civile, scatena l'ira della Marchesa e della Duchessa. La tensione cresce quando la Duchessa, sorpresa dai modi bruschi di Manuel, si trova a fronteggiare un giovane deciso a seguire i propri sogni senza farsi influenzare né dalle suppliche di Cruz né da quelle di Alonso. Nel cuore della tenuta i preparativi per una grande festa in maschera procedono a ritmo serrato. Mauro, sempre più sotto pressione per le lezioni impartite da Romolo, cerca di destreggiarsi tra i suoi nuovi doveri e le crescenti aspettative. Un momento di emozione arriva quando Simona riceve una lettera dal figlio Antonio, portando un tocco di umanità e riflessione in mezzo a tanta tensione. Poco prima della festa, Curro riceve una lettera da Martina, implorandolo di salvarla dal sanatorio. Determinato a fare il possibile, Curro si reca al luogo indicato, rischiando tutto per liberarla. Martina, ancora troppo spaventata, teme di essere arrestata con l'accusa di omicidio. Curro, senza perdere tempo, le passa una coperta per nascondere il volto e la conduce verso l'uscita, ma le guardie li notano e danno subito l'allarme. Nel frattempo, alla villa, Cruz viene informata della sparizione di Martina dal sanatorio. Non si hanno notizie nemmeno di Curro, e Gianna teme che sia accaduto qualcosa di grave al fratello. Romulo riceve una lettera che mette Pia in pericolo. Nelle puntate della Promessa, trasmesse in Spagna, anche Pia sarà nei guai, costretta a nascondersi nella grotta dopo aver finto la sua morte per sfuggire a Gregorio. Ma Petra sa che è viva, così come il perfido marito. Maria e Gianna la aiutano a sopravvivere e a mantenere il nascondiglio segreto, ma sembra che le loro buone intenzioni non bastino. Curro e Martina potrebbero non tornare mai più. Non sempre le favole finiscono bene. Hanno attraversato molti ostacoli per vivere il loro amore, ma ora la loro fuga è in pericolo. Se le guardie li fermano, Martina finirà in prigione, dato che Angela non ha alcuna intenzione di ritirare la denuncia per tentato avvelenamento. Un'altra ipotesi è che i due innamorati riescano a lasciare la città, fuggendo in un luogo segreto. E voi, cosa fareste al posto di Curro e Martina? Credete che la promessa d'amore possa superare ogni ostacolo? Lasciateci i vostri commenti e fateci sapere le vostre opinioni. La tensione alla tenuta è palpabile. Ogni personaggio è avvolto nelle proprie lotte personali. Ogni scelta potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. Manuel, determinato a volare nonostante il divieto, si scontra con le aspettative della sua famiglia. Cruz e Pelaio, manipolando la situazione per allontanare Catalina, si trovano a gestire i propri segreti. E la Marchesa, con i suoi piani, aggiunge ulteriori strati di complessità a una situazione già intricata. In questo vortice di emozioni, la promessa rimane un filo conduttore. Ogni personaggio è legato da promesse fatte e da promesse infrante. E la tenuta è il palcoscenico di questi drammi. Cosa succederà nella prossima puntata? Riusciranno Curro e Martina a sfuggire alle guardie? Quali saranno le conseguenze delle azioni di Manuel? E come reagirà Catalina alla verità? Non perdetevi il prossimo episodio per scoprire come si evolveranno le trame, e quali segreti verranno ancora svelati. La promessa è solo l'inizio. Continuate a seguirci, e lasciatevi avvolgere dal mistero e dalle emozioni della tenuta. Non perdetevi il prossimo capitolo di questa avvincente saga. Vi aspettiamo sul nostro canale! Grazie! 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 Grazie!